salve a tutti benvenuti sul mio canale in questo nuovo video vi farò vedere come realizzare questo scaldacollo interamente realizzato ad uncinetto semplicissimo da lavorare questo tipo di progetto è adatto anche a chi alle prime armi anche chi non ha mai utilizzato l'uncinetto può cimentarsi in questo lavoro che è veramente molto molto semplice quindi se state guardando il video continuate a guardare perché vedrete che questo tipo di lavorazione è veramente facilissima da fare questo tipo di filato è un filato un po spesso ma per rendere questa questo collo molto morbido sono andata ad utilizzare un uncinetto molto più grande rispetto a quello che veniva suggerito appunto dall'etichetta per questo filato veniva infatti suggerito un uncinetto tra il 6 e il 7 invece io ho utilizzato un uncinetto molto più grande il numero 9 per andare a dare proprio una leggerezza una morbidezza al al mio lavoro che è veramente molto molto bella in quanto veramente sotto le mani il lavoro realizzato risulta molto morbido molto bello questo tipo di progetto può essere ideale sia per realizzare un pensierino per una donna ma può essere adatto anche ad un uomo basta scegliere il filato adatto il colore adatto si tratta di andare a realizzare una fascia abbastanza lunga e poi di andare ad unire i due lati e creare in questo modo il nostro scaldacollo che viene piegato in questo modo abbiamo questa bellissima lavorazione questo bellissimo progetto io vi lascio naturalmente al tutorial e spero veramente che questo video vi piaccia vi ricordo di lasciarmi un bel pollice in su e di iscrivervi al canale se i miei progetti vi piacciono io vi saluto e vi lascio al video ciao per questo progetto userò questo filato sfumato molto morbido vi faccio vedere la composizione del filato si tratta di un 53 per cento di lana e un 47 per cento di acrilico per questo filato il produttore suggerisce di usare un uncinetto 6 o 7 io invece utilizzerò un uncinetto molto più grande un uncinetto numero 9 con questo tipo di uncinetto molto più grande la lavorazione risulterà molto più soffice quindi il lavoro verrà più morbido molto più leggero per quanto riguarda invece i grammi ho usato due gomitoli da 50 grammi ogni gomitolo è formato da 90 metri di filato io ho usato due gomitoli da 50 per prima cosa prendiamo il nostro filato che può essere anche un filato vostra scelta un filato diverso io userò questo filato abbastanza spesso ma come vi ho detto con un uncinetto molto più grande userò il numero 9 per prima cosa quindi farò un nodino iniziale filo corto sul dito creo la x con l'uncinetto porto il filo da quest'altra parte e poi tiro adesso vado a fare un totale di 19 catenelle lavorando le molto larghe 3 4 5 6 7 8 9 dopo aver fatto 19 catenelle salto la prima catenella quella più vicino all'uncinetto vado nella catenella subito dopo e realizzo una prima maglia bassa proseguo realizzando una maglia bassa per ogni catenella di base per un totale di 18 maglie basse dopo aver fatto la prima fila di maglie basse giro il mio lavoro e per prima cosa vado a realizzare due catenelle volanti 1 e 2 adesso vado a realizzare per tutta questa fila tutte mezze maglie alte ma in costa pretro quindi filo sull'uncinetto salto le due catenelle che naturalmente appena fatto per salire vado qui che sarebbe la prima maglia bassa che ho realizzato e dentro non qui ma girando il lavoro vado ad entrare qui al centro andando a prendere soltanto la costina che si trova nel retro e vado a realizzare una mezza maglia alta di nuovo filo sull'uncinetto vedete che qui avete questa lavorazione queste due costine entrate al centro e prendete soltanto la costina retro facendo una mezza maglia alta lavoriamo per tutta questa fila facendo una mezza maglia alta per ogni maglia bassa sottostante ma presa in costa retro in questo modo vedete che è molto semplice da realizzare girando il lavoro entrerete qui al centro e prendete soltanto la costina retro e arrivate fino alla fine della fila arrivati alla fine della fila vi dovete ritrovare sempre con 18 mezze maglie alte proseguite sempre in questo modo quindi girate il lavoro fate due catenelle per salire e iniziate a lavorare di nuovo questa fila realizzando tutte mezze maglie alte ma in costa retro come abbiamo visto per la fila precedente proseguite quindi in questo modo fino a realizzare quella che è la lunghe desiderata come vedete io ho proseguito nella lavorazione e ho realizzato questa fascia molto lunga io vi dico le misure che ho realizzato per quanto riguarda la larghezza noi abbiamo una larghezza di 17 cm con il filato che ho utilizzato io naturalmente mentre invece la lunghezza che sono andata a fare è di 128 cm adesso se noi vogliamo possiamo lasciare il lavoro così com'è andando a nascondere i fili e quindi ne verrà una bellissima sciarpa oppure se noi andiamo a chiudere questo lavoro prendendo entrambi i lati e andiamo a fare qui una cucitura andremo a realizzare un anello molto grande che naturalmente mettendolo sul collo e andando a chiudere andremo a realizzare un collo quindi se vogliamo lasciamo così la sciarpa così com'è che comunque molto molto bella io invece vi farò vedere anche come andare a chiudere per realizzare un collo andando quindi a chiudere e poi piegandolo in questo modo andremo a realizzare un bellissimo collo come vi ho detto prima per creare un collo andiamo ad unire i due lati aperti in questo modo li avviciniamo lasciate un po di filo in più e ho inserito un ago da lana per poter fare questa cucitura quindi andiamo a cucire questi due lati con una cucitura molto semplice vado da un lato e dall'altro e do questa cucitura per chiudere questi due lati e creare in questo modo il nostro collo accostate semplicemente i due lati e andate a fare una cucitura molto semplice arrivate in questo modo fino alla fine arrivate quindi da quest'altro lato e poi andate a nascondere il filo come vedete questa è la cucitura che ho fatto che si nasconde molto bene all'interno della lavorazione se giriamo il lavoro resta tutto molto pulito e questo è il collo che abbiamo realizzato come vedete è veramente molto bello e vi assicuro che lavorando il filato con l'uncinetto molto più grande la lavorazione resta molto soffice veramente rimane una nuvola ed è leggerissimo molto bello possiamo realizzare questo collo sia in versione femminile oppure usando dei colori più scuri dei colori da uomo possiamo farlo anche per un ragazzo o per un uomo come vedete risulta veramente molto bello andando quindi a piegare in questo modo questo è il nostro collo molto molto particolare potete usare per realizzarlo anche un filato in tinta unita l'effetto comunque sarà molto bello spero come sempre che questo video vi sia piaciuto se sì lasciatemi un bel pollice in su se non l'avete ancora fatto vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi altri video creativi io vi saluto e noi ci vediamo per un prossimo video tutorial ciao